Oh bella non so, dimmi tu, però è simpatica, questo lo so, dimmi di più, l'ho vista ieri sera al night trip fino alle 3, non mi ha mollato capisci a me, sentimi un po', ieri mattina appena dopo le 3, a fare che, in una stanza di un famoso motel con una top model, non mi mi ha mollato capisci a me, rossa, si dicono tante cose, oh su di lei, di chi si parla però, dai dimmelo tu, si chiama Jennifer, la rossa viene da Storyville, mi scusi mister, sembrava strano, fosse facile, ma perché, era palese che, proprio alle 3, Miss Jennifer, cambiava turno, capisci a me. Rossa, venga a me, si dico tante cose, oh su di lei, di chi si parla però, dai dimmelo tu. Si chiama Jennifer, la rossa viene da Storyville, si chiama Jennifer, la rossa viene da Storyville. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.